Amo, ma che cazzo ha fatto? Amo, le parole dai, sto con la bambina. Ma capisci la bambina? Sembra. Poi un bel giorno se ne esce con... La pupa ha parlato, ha detto... Poi tua madre la senti tu. Oh, ma lascia sta mi madre, ma che ha detto? Ma come ha fatto a dire qualcosa del genere? Ma ti rendi conto? Oddio, che avrò detto mai? L'anno scorso Francesco era in un momento, diciamo, molto delicato, ecco. Non ha mai chiesto di giocare, anzi si è sempre messo lì seduto ad aspettare con umiltà. Ma io non critico la scelta tecnica, io critico il comportamento umano. Spalletti è stato un uomo piccolo. Senti, tu lo pensi e io lo dico. Non c'ho niente da nascondere. Infatti io gli ho detto quello che penso, lo sa bene lui. Però io a lui io lo dico, non alla gazzetta. Possibile che ancora non ha capito che certe cose nello spogliatoio non sta. Sì, ma io nello spogliatoio non ci posso entrare. Tra un po' manco io, eh. Fra è che io non me lo posso scordare come stavi. Cioè come ti sei sentito umiliato. Io non me lo potevo tenere. E mo? Tanto grave? Io un altro anno in guerra non reggo, eh. E manco noi. Grazie. Grazie.